Ok, per ordinare tramite app al McDonald's vi basterà cercare l'app McDonald's, entrare e cliccare sul pulsante ordine in app. Poi sceglierete il prodotto che vi serve. In questo caso io scelgo Sunday frutti di bosco e lo aggiungo al carrello. Aggiunto al carrello andate nel carrello e scegli la modalità di ritiro. A questo punto io ho scelto servizio al tavolo e quindi ho inserito il numero del tavolo. Guardando sul tavolo c'è il numero del tavolo. Adesso inserirò 518. A questo punto conferma e paga. Scegliete la modalità di pagamento Apple Pay oppure carta che avete come metodo di pagamento online. in ordina e paga ora. Cliccate e premete due volte il tasto laterale e il pagamento verrà eseguito. Dopo un po' arriverà la notifica dall'app della vostra carta prepagata e in 5 minuti il vostro ordine sarà al tavolo. Grazie. Grazie.